Truffe sentimentali online, il pericolo in rete è sempre dietro lo schermo del proprio smartphone o pc. Per questo sulla pagina social della questora di Caltanissetta è stato dedicato un posto in cui si invitano le persone a fare attenzione ai furti di identità, ovvero i catfish, e a bloccare eventuali contatti strani che richiedono l'amicizia o si spingono ben oltre, fino al giro psicologico e alla truffa economica. Le storie sul web riportate anche dal sito della Polizia di Stato sono molte e hanno quasi sempre le stesse caratteristiche e il loro stesso finale. Le vittime sono persone che si fidano della Cuzzino e che subiscono sia una vera e propria aggressione nella sfera sentimentale, ma anche danni economici. Come il caso di una donna di mezza età di Ferrara che nella vita è un'assistente domiciliare. Aveva iniziato un'amicizia virtuale su Facebook con Daniels, un militare di nazionalità statunitense in missione in Medio Oriente e Siria. Poi la conversazione si sposta su un'altra applicazione di messaggistica, Viber, più sicura, dice lui, ma solo proprio perché gli consente di mantenere il più totale anonimato. Poi quando la donna chiede di scambiare messaggi attraverso WhatsApp, l'uomo le dà un numero britannico e dopo un mese di messaggi Daniels le promette una vita affettiva insieme in Italia o negli Stati Uniti, ma prima le chiede aiuto economico. E proprio quando i progetti sembrano trasformarsi in realtà è il denaro che diventa lo scoglio. Così la donna racimola velocemente 70.000 euro, effettua versamenti attraverso circuiti internazionali. Solo dopo arriva la conclusione di trovarsi di fronte alla truffa quando è troppo tardi ed ha importanti debiti da saldare. Gli investigatori della Polizia Postale e delle comunicazioni hanno accertato come truffe sentimentali vengano poste in essere sia da organizzazioni strutturate in costa d'Avorio, ma anche da soggetti che operano individualmente. Si tratta di frequentatori abituali, di piattaforme di incontri, quindi non solo Instagram e Facebook, anche Tinder. Denunciare quando si subisce la truffa è fondamentale.